Con OneFootball sì, ogni news sul calcio qui troviamo Credo proprio che un'app come te non c'è stata mai Ogni volta che vuoi essere aggiornato tu l'aprirai Alla fine poi OneFootball è l'app che fa per te Se vuoi comprare ogni giocatore Venderei più del dovuto, a volte lo prendi in meno di 24 ore Formalizziamo le cose, a volte succedono miracoli Col PSG che supera gli ostacoli, intanto la UEFA sanziona il Milano E' giusto così? No 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 no, tutti questi sceichi non sento la crisi E' il Barcellona, l'atletico Griezmann strappò La Juve Zero continua a comprare senza fare sacrifici Oh no, ora diamo inizio allo show Mercato, con Hazard che va a Real Madrid L'Inter che ha preso Diego Godin Jovic che ha lasciato Francofort Mercato, con Hazard che va a Real Madrid L'Inter che ha preso Diego Godin Jovic che ha lasciato Francoforte Mercato Na 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 Mercato Jovic ha lasciato Francoforte Pogba ha lasciato il suo cuore Juve vicina anche a De Ligt Costo di Joao Felix fa scalpore Direzione Atletico Madrid Pogba vuole emozioni nuove Scienze di Dio sai che ce ne son po' che parlano di affare fatto Super contratto Il Real ha calato il poker Diamo inizio al calcio mercato Ma i trasferimenti non son più gli stessi Con la Premier che fa sempre il botto Si, fa nel loro interessi A me scherza era ufficiale ad ore Il Pipita da Roma lo vuole Neanche alla Juve con Sarri allenatore Questa volta gli hai spezzato il cuore Mercato Con Asar che va al Real Madrid L'Inter che ha preso Diego Godin Jovic che ha lasciato Francoforte Mercato Con Asar che va al Real Madrid L'Inter che ha preso Diego Godin Jovic che ha lasciato Francoforte Dalle pagine dei transfer Scorro, 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 scorro I top player rincorro, corro, corro, corro Pronti a firmare il contratto Pongo, 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 pongo Quanti soldi che hai da darmi E i top player puoi prenderti Mercato Con Asar che va al Real Madrid L'Inter che ha preso Diego Godin Jovic che ha lasciato Francoforte Mercato Con Asar che va al Real Madrid L'Inter che ha preso Diego Godin Jovic che ha lasciato Francoforte Mercato Mercato Jovic che ha lasciato Francoforte